Non sono soltanto i casi Covid in questo periodo ad aumentare, ci sono anche le influenze stagionali che stanno circolando in una maniera importante nella popolazione. Ce lo confermano i dati che abbiamo analizzato assieme alla dottoressa Elena De Santis, direttrice del servizio di igiene e sanità pubblica dell'ASL Toscana Sud-Est. Il picco è previsto intorno alla fine del mese di dicembre, quindi è una stagione un po' in anticipo rispetto agli anni precedenti. Infatti già attualmente ci sono molti casi di influenza o sindromi simili influenzali, comunque di sintomi che sono quelli tipici dell'influenza. A livello di vaccinazioni la popolazione ha già risposto, a che livello siamo? Le vaccinazioni stanno rispondendo, andiamo un po' troppo a rilento. Siamo arrivati nella provincia di Arezzo intorno al 37%, parlo degli ultra sessantenni di età. Quindi le coperture diciamo minime dobbiamo raggiungere, sono intorno al 75%, quindi ancora siamo leggermente indietro. E per questo invito assolutamente le persone che ne hanno diritto a vaccinarsi, a vaccinarsi prima possibile perché la stagione è già cominciata. L'influenza che viene normalmente associata ad una infezione banale e benigna, in realtà non è così. Di media circa 8.000 persone muoiono da noi ogni anno per influenza. Sono soprattutto persone anziane, persone con comorbidità, quindi delle patologie associate, però l'influenza è comunque un'infezione che può dare gravi complicanze, quindi va assolutamente evitata. Oltre l'aggressività è sicuramente la suscettibilità all'infezione perché l'aver tenuto la mascherina per due anni ci ha un po' preservato da una parte dalle infezioni respiratorie e dall'altra parte ha preparato meno il nostro organismo a ricevere il contatto con i virus. Quindi sicuramente quest'anno le raccomandazioni, oltre che del vaccino, sono di continuare a tenere la mascherina quando andiamo nei luoghi affollati. Quindi le solite precauzioni che si usavano per il Covid, come lavarsi le mani, disinfettarsi, tenere la mascherina, devono valere anche per evitare l'influenza. Un aggiornamento allora anche sull'andamento del Covid in queste ultime settimane? Sì, nell'ultima settimana abbiamo visto una lieve flessione in positivo, cioè un aumento dei casi sia di infezioni che di ricoveri ospedalieri. Sono quelle oscillazioni che sono anche normali nel corso di un'epidemia infettiva, però ecco questo per dire che non abbassiamo la guardia nemmeno nei confronti del Covid e rilanciamo l'appello a effettuare anche la vaccinazione, in particolare la quarta dose che stenta anche questa a partire e che come sappiamo è offerta a tutta la popolazione sopra i 12 anni.